Niccolò Mannino, Presidente del Parlamento della Legalità Internazionale, è un tema che ritorna nelle cronache quotidiane sia a livello istituzionale ma anche nel nostro menage di famiglie e imprese. A Termoli per lanciare quale messaggio? Naturalmente il messaggio è quello di ritornare e innamorarci della vita. Come lo avrebbe detto Paolo Borsellino, come lo ha detto Giovanni Falcone, come l'ha detto padre Puglisi che 30 anni fa affrontò il suo carnefice col sorriso dicendo me l'aspettavo. O come disse Paolo ai funerali quando vide la bara del collega Giovanni e quando disse perché non scappò da Palermo, perché amava, amava quella città, amava ciò che faceva. E quindi dice Paolo abbiamo un grande debito, lo dobbiamo pagare gioiosamente. Il Parlamento della Legalità Internazionale è forte di questo appello, non può che fare della sua realtà, una realtà di speranza, di vita, di amore. Lo facciamo noi con tutte le 70 ambasciate create in tutta Italia e anche al Cairo, in America, in Costa d'Avorio, Madrid e prossimamente saremo anche in Belgio. C'è una nota fondamentale che ci accomuna in tutte le fasce delle regioni italiane, essere protagonisti attivi per una cultura di riscatto e di amore alla vita. E lo facciamo ogni anno con la pubblicazione di un libro, lo facciamo creando il Festival della Legalità e della Gioia, grazie alla preziosa collaborazione del Vicepresidente Salvatore Sardisco e di tutti coloro che si mettono in gioco. Perché vedete noi abbiamo un'idea molto chiara, la legalità non è un progetto, la legalità non è uno slogan, è un modo di essere, è un modo di vivere. È come quando uno si mette un profumo che lo contraddistingue. E allora essere qui a Termoli, essere nel Molise, lanciare un inno di gioia, non voglio fare vittimismo o dire ecco ci hanno ammazzato. No, 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 no. Vogliamo cantare la vita, vogliamo dire a ciascuno qual è il tuo talento naturale. Ecco l'obiettivo del Parlamento della Legalità. Qual è il tuo talento naturale, cosa sai fare per essere veramente credente e credibile. Quindi metterci la faccia ma principalmente metterci il cuore che è la cosa migliore. Il Parlamento della Legalità anche a livello internazionale non può non tenere in considerazione quelle che sono le riforme in essere, soprattutto dal punto di vista dell'ordinamento giudiziario, in Italia. Questo sì. Indubbiamente noi facciamo appello a tutti coloro che sono chiamati e predisposti a dare il loro forte contributo nell'ambito giudiziario ad affiancare quelle che sono le speranze, le attese e i sogni dei giovani. Ci tengo a precisare che il nostro Presidente onorario, per esempio, si chiama Renato Cortese, quello che da dirigente della squadra mobile di Palermo, dopo otto anni di indagini, ha messo le manette a Bernardo Provenzano. Abbiamo personalità che credono fortemente in una realtà giuridica che parte da un impegno costante. Poco fa nella battuta citavo velatamente Rosario Livatino, quando nella sua agenda ogni mattina scriveva tre parole, le STD, sub tutela dei, e fu la spinta, io direi emotiva, perché no, che portò Giovanni Paolo II, il 9 maggio del 1993, a lanciare l'anatema contro la mafia nella Valle dei Templi, quando gridò fortemente, convintamente, mi dico pure profeticamente, verrà una volta il giudizio di Dio. Io, peraltro, vi comunico che, avendo poi sentito quel Vescovo, il signor Carmelo Ferraro, che portò Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi, alla domanda di un emittente nazionale, che gli disse, ma quel grido del Papa ha prodotto qualcosa? E il Vescovo disse, sì, la nascita del Parlamento della Legalità Internazionale, che, ci tengo a sottolineare, ha avuto come primo Presidente onorario il giudice Antonino Caponnetto, il coordinatore, non il fondatore, il coordinatore del pull antimafia, perché il fondatore è stato Rocco Chinnici, il coordinatore del pull antimafia, del quale ne fece parte sia Giovanni Falcone che Paolo Borsellino. E fu proprio nonnonino ad accettare questa nomina, nomina che oggi è del prefetto Renato Cortez. Ha citato Borsellino in queste ultime settimane, c'è una forte polemica per l'iniziativa assunta sulle indagini per l'agenda rossa. Guardate, io non entro in merito a queste cose perché, ripeto, noi abbiamo un campo che è quello emotivo, quello culturale, quello informatico, e io ho scelto di continuare a fare ciò che condividevo con lui, perché io Paolo l'ho conosciuto il 18 marzo del 1989. Andare nelle scuole, lavorare in una scuola palestra di vita, e l'agenda rossa credo molto negli sms, nei messaggi, nei pizzini, della gioia, nelle lettere dei ragazzi che hanno tanta voglia di riscatto e che, ecco anche la mia presenza qui a Termoli, abbiamo messo insieme, facendo il libro che lo scorso 24 ottobre abbiamo presentato, dentro il Vaticano, che ha come titolo Il mio nome e amore.